Buongiorno signori, sono Alessio della Romus 3 Immobili Esclusivi. Oggi sono a Torrino Nord, a Viale dell'Oceano Indiano, e vado a presentarvi un nuovo appartamento in affitto. Si tratta di un bilocale parzialmente arredato. Andiamo a vederlo? L'appartamento è in un complesso condominiale, signorile ed elegante, e dotato di portineria. Eccomi! Iniziamo dall'ingresso. Divide la zona living da quella notte. Il soggiorno è esposto a sud-est ed è molto luminoso, ed accede direttamente al balcone vivibile. Il balcone è di 11 metri quadri ed affaccia direttamente sul Viale dell'Oceano Indiano. Da qua vediamo il quartiere Eursik. Il riscaldamento è autonomo, con caldaglia a gas a Riston, e le spese condominiali sono di 60 euro mensili. L'angolo cottura è nuovissimo e in stile industriale. Gli affittuari dovranno completarlo con i propri elettrodomestici. La camera è di 14 metri quadri circa ed accede allo stesso balcone. Abbiamo un piccolo disimpegno con armadio a muro. Il bagno è interno ed è dotato di vasca, areatore e attacchi della lavatrice. L'appartamento è in discrete condizioni. Abbiamo pavimenti in ceramica, a porta blindata con doppio paletto, infissi in legno doppio vetro con zanzariere e tende da sole. L'appartamento si affitta parzialmente arredato. È l'ideale per un singolo o una giovane coppia che possieda già il proprio mobilio. L'appartamento viene affittato con un posto auto scoperto qui nel cortile condominiale. Siamo a poca distanza dall'Eur. Sotto casa abbiamo diverse attività commerciali e a poca distanza abbiamo anche il centro commerciale Euroma 2. Sotto casa abbiamo ben tre autobus che portano alle metro B, Palasport e Magliana. E da qui accediamo facilmente anche alla Cristoforo Colombo e all'Ostiense. E da questo parco a due passi da casa con aree animali io vi saluto. Vi aspetto alla prossima visita e ricordatevi di seguirci sui nostri canali social. Ciao!